A tutti, grazie per aver aderito a questa chiamata, a questa risposta, non so. Ed ecco che allora, questo movimento del Rosario di persone uomini, lo diceva l'altra volta, non è, io lo so, ci vuole coraggio, ci vuole costanza, ci vuole forza, ci vuole determinazione, in ciascuno di noi. La Madonna chiede questo, ogni primo saluto del mese, incontro, insieme, organizzare una manifestazione, va studiata, va preparata. Ora a noi la Madonna chiede la presenza, la costanza, la fedeltà, questa è una parola che non dovremmo mai dimenticare. Non possiamo dire di no la Madonna perché la Madonna ci ha scelto. La nostra fede è la stessa cosa se tu non difendi la tua fede con forza, determinazione, costanza, fedeltà, elementi che ci dà la Madonna. Allora la nostra fede sarà fragile, il primo combattimento, risulteremo già morti. Molti uomini sono morti perché non hanno con sé l'altanù. Ancora noi attraverso Maria vogliamo rivestirci di questa saluta, forte, vogliamo che resta e resista da ciascuno di noi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.